Marco è un tecnico informatico che lavora in un'azienda operante nel settore sanitario. Ogni giorno archivia, gestisce e smista migliaia di file, impegnandosi a migliorare il flusso di lavoro e ad archiviare una grande mole di dati. Una sera alcuni malintenzionati entrano nell'azienda con l'intento di rubare le informazioni conservate nei server. La mattina dopo il tentato furto, in ufficio regna la preoccupazione. Ci si chiede cosa potrà succedere ai dati aziendali e quali possibili conseguenze possa avere l'accaduto. A tranquillizzare tutti però ci pensa Marco, che spiega loro che i ladri hanno praticamente fatto un buco nell'acqua. All'interno dei server scassinati, infatti, non erano presenti più informazioni sensibili. Da qualche settimana l'azienda stava adottando una piattaforma di cloud computing che consente di archiviare i dati in rete in massima sicurezza e con grande facilità di accesso. Non più un rifugio fisico fortemente esposto a rischi, ma una cassaforte inespugnabile che risiede sulla nuvola. Una brutta notizia per i ladri, un'ottima notizia per Marco, che può svolgere il suo lavoro al meglio dormendo sonni tranquilli.